E' stato aggredito mentre svolgeva il suo lavoro, paura per un autista del CSTP che ieri pomeriggio è stato preso a pugni all'uscita del casello autostradale di Sarno. Stava facendo la Corsa 82 che collega l'Ateneo Salernitano di Fisciano alla città di Sarno. Mentre era in autostrada, all'altezza della galleria tra il casello di Castel San Giorgio e Noceano Inferiore, è stato avvicinato da un'automobile di grossa cilindrata. Chi era al volante ha cominciato ad inveire contro di lui. Paura, tanta paura per gli studenti universitari a bordo. L'autista ha mantenuto fortunatamente la lucidità fino al casello di Sarno, dove il pulma si è fermato per far scendere i passeggeri. E' in quel momento che è scattata l'aggressione fisica. Ieri pomeriggio, mentre stavo guidando in autostrada, sono stato affiancato da una persona sconosciuta che ha iniziato a insultarmi, ha iniziato a stringere il pulman. Io sull'autostrada c'erano un sacco di ragazzi che stavano ragionando con me, ci faceva fare il zigzag sull'autostrada senza capire qual era il motivo, che cosa era successo. Dopo mi ha affiancato e mi è venuto appresso. Fino al casello di Sarno, dove lei è uscito e ha fatto la fermata per far scendere i ragazzi. Sì, infatti io mi sono dovuto fermare perché dei ragazzi hanno prenotato una fermata. Dopodiché ho visto questo individuo che si è avvicinato al pulma e guardava il pulma. Quindi io sono sceso per capire che cosa era successo e mi ha aggredito. Mi ha aggredito verbalmente e fisicamente. Infatti poi dopo sono andato a terra, è venuto l'ambulanza, queste cose qua, non ricordo più niente. Che cosa è successo non lo so. Sono stato aggredito senza capire che è successo. C'è tutto il pulman che ha visto la scena, non lo so. I ragazzi hanno avuto pure paura perché poi sull'autostrada l'autobus, come diceva lei, faceva zigzag. Ma sicuramente. Io sono stato bravo a guidare perché lui spingeva verso il guardarai, ci voleva spingere verso fuoristrada. Senza capire perché. Meno male che poi la sacoma del pulman è grande e sono riuscito a mantenere il pulman. È stata una cosa terribile, una cosa pericolosissima. Oltre a riportare danni fisici, queste vicende segnano anche moralmente. È normale perché tu stai guidando, stai lavorando per fatti tuoi, vieni aggredito dall'ennesima persona che si aggrediscono sempre sull'autobus. Sì o no, mentre guida o non guida, ce l'hanno sempre con quelli che guidano. Non ho capito perché. Lei sporgere denunce? Sicuramente, perché mi ha fatto male e ho avuto già giorni di prognosi all'ospedale. Questo purtroppo è l'ennesimo incidente capitato a chi giornalmente lavora per il CSTP. Diciamo che le aggressioni sono state ultimamente maggiori rispetto ad altri tempi. Non si capisce ancora la motivazione del perché colpire gli autisti del CSTP o gli autisti in generale. Noi abbiamo fatto già più volte richieste e allertato sia la prefettura di Salerno che l'azienda perché queste varie cose fossero limitate nel tempo. Però purtroppo causa anche l'imprevedibilità di questi episodi e comunque è molto difficile fare un lavoro di prevenzione.